eccoli qui piccolini e una settimana abbiamo il maschietto come il papà bianco e marrone bianco e nero da te che belle striature quella c'è la femmina bianca e nera che dorme con il maschietto bianco marrone e qui abbiamo gli altri tre la femmina tricolore questa piccola panciona che diventerà come lacrimi l'altro maschietto bianco e marrone e l'altro maschio quasi tutto nero bicolore una settimana bambini dei lacrimi con spotty